Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigica E bentornati nel nostro luogo d'origine Esatto, oggi siamo qui a parlare degli upgrade della mia e della sua prestazione e delle nuove cose che stiamo facendo, diciamo così Arriveranno video dedicati ai vari singoli pezzi più avanti ma questo è un mega raccoglitore di tutto quello che stiamo facendo e questo è come sembra l'aspetto di Camera di Davide ora che abbiamo sistemato un po' di cose Esatto, innanzitutto dobbiamo dire che dicembre, nelle vacanze natali, è stato il mese dell'audio nel senso che abbiamo migliorato un sacco tutti i due i nostri reparti audio Abbiamo passato quindi buona parte delle vacanze a documentarci, informarci per recuperare tutta una serie di prodotti da camp dedicati appunto ai nostri sistemi audio lui ha fatto anche una stronzata ma ci arriveremo con l'audio Perché devo fare sempre io le stronzate? È vero, l'hanno visto anche loro nelle foto su Instagram E canse sono quelle nommoli? E quindi abbiamo recuperato entrambi lo stesso da camp che qui non credo che lo vediate voi adesso Lo vedrete poi in una registrazione È il topping di X3 Pro È un DAC, quindi un convertitore analogico digitale E un amplificatore insieme Ovviamente sarebbe meglio averli separati Però io per esigenze di spazio sulla scrivania come vedete ho già 852.000 cose Esatto Due console, due PC, due monitor Diciamo che anche un DAC e un AMP non riuscivo a farci stare separati L'ho trovato la soluzione di attaccarlo alla scrivania Brutalmente Però è di una comodità pazzesca E ci sta benissimo Comunque a livello di design è anche un bello oggettino Ma chi se ne frega L'importante è come poi si sente l'audio dopo averci attaccato delle cuffie E devo dire che è un prodotto veramente pazzesco E che cuffie ci attacchiamo tra l'altro Perché il caro Davide In generale C'è la passione per le tastiere È stata una scimmia per un po' di mesi Recuperate 19 tastiere 19 tipi di keycaps Adesso anche le cuffie Dai racconta che cosa hai cercato online Allora Hai speso quasi più tu di me Sì ma non in cuffie Tu hai speso di più in cuffie Hai speso 1200 euro questa vacanza di Natale Anche di più in realtà Allora Io mi sono comprato per Natale Delle Seneser KD800 Usate Già rodate Da comunque un ragazzo molto affidabile Che me l'ha vendute A poco meno di 600 euro Quindi è comunque un prezzo Secondo me importante Per delle cuffie che sono pazzesche Perché comunque sono cuffie veramente senza senso Queste cuffie qua sono spettacolari E devo dire che Al di là del suono che è meraviglioso Come si indossano Come sono E sono veramente un prodotto Mai provato niente di simile No veramente Cioè pazzesco Non ha proprio paragone Sono delle cuffie veramente spaziali Ovviamente Adesso non si trova neanche più Perché ci sono le 820 E questo è un 2000 euro C'è le 820S Le 800S E ci sono queste Cuffie comunque che sono abbondantemente Sopra 1000 euro Per cui ovviamente Le ho recuperate Così Ma sono veramente Spaziali No un livello Un livello veramente Sopra La comodità è senza senso E vabbè l'audio Ovviamente senza senso Pilotato anche Da un da camp Come si deve In generale però Non sono state le uniche cuffie Che hai comprato No Ho preso anche delle Bayer Dynamics Le DT1990 Pro Che sono lì dietro Con questo filo telefonico Che è una figata Sì perché Ovviamente non ho Modo di attaccare Per quello Vedremo in un futuro Anche queste cuffie Mi hanno sorpreso Veramente positivamente Volevo far reso Ma sono di una comodità Pazzesca In gaming Mi sto trovando Veramente benissimo In musica uso queste Per giocare uso queste qua E devo dire Che mi trovo da dio Perché quelle ballano Un po' Mentre gioco Mentre gioco Mi muovo E mi ballano Schiva i proiettili Queste qua sono Veramente una figata Lato mio Avendo recuperato Il topping Stavo cercando Anche io Qualcosa di Usato Però Cercavo le HD700 Che non si trovano In alcun modo A parte per prodotti Che sinceramente Non mi ispiravano Molto usati Non mi piaceva l'idea Quindi ho recuperato Le 660S Che sono Anche tu Quasi 600 euro Le spese Esatto Che sono il sostituto Diciamo Delle HD700 Sempre Sennheiser Cuffie fighissime Poi ve le farò vedere Non ce li ho Qui fisicamente Ve le farò vedere In qualche ripresa Un po' più Da vicino Molto molto fighe Non comode Come quelle Mai nella vita Però sono molto comode Anche quelle Dei driver belli ampi Per i padiglioni Perché ho le orecchie Molto molto larghe Io Lui è tipo Padiglione auricolare Che è grosso così Vedete la bistecca milanese L'orecchia dell'elefante Più o meno E quindi mi serviva Volevo qualcosa di comodo Anche per quello E mi ci sto trovando Molto molto bene Inoltre Stavo pensando Anche alle 400i Ai Fiamen Che mi ispiravano molto Però anche quelle Dovrei recuperarle Usate In qualche modo Quindi vedremo Nei prossimi mesi Solo spese folle Un altro miglioramento Che ho fatto alla postazione È stato a livello audio Dato che appunto Ho delle cuffe da studio Adesso Ho preso Il braccio Della Rode Che è una figata atomica Lo shock mount Per montarci su Il Rode NT-USB Ho anche un altro Microfono Razer Che alterniamo E comunque Mi trovo bene Con entrambi Sono bei prodotti Mi sentono benissimo Ed è stracomodo Giocare Mentre comunque Hai quel coso Perché te lo tiri Te lo sposti Come vuoi Ed è proprio Un altro livello Rispetto a comunque Avere il microfono Qui che sta Che rompe le balli Si sente male Da quel punto di vista Lì anche il microfono Prima utilizzavo Il Meteor Mic Che è il classico Proprio Sdoganatissimo Per YouTube Adesso ho provato Per un po' di tempo Il Siren X E mi ci sto trovando Molto bene Piccolino Ma sapete qual è il problema Di questi stronzi Lui e gli altri amici Ce l'hanno sulla scrivania Davanti alla Alla cosa Alla tastiera Quindi loro Poi io sento Tutti i loro casini Nella tastiera Poi iniziano a mangiare Si fanno la pizza Alle tre di notte E l'altro si fa Pasta e fagioli Sto qui Beve Montenegro Un litro e mezzo Sento tutto il ghiaccio E il casino che fa Cioè Praticamente il gioco Asmr Sembra di essere al Mcdonald Asmr A te piace Asmr Io so di che il gioco Sto qua Non si sente Perché la tastiera è lontana Quindi non si Sì È una roba incredibile Quindi il microfono Funziona da dio Sì Anche troppo Due miglioramenti Sono stati fatti In questa camera A livello di illuminazione È stato prolungato Il serpentello Dei nanoliffe E si ringrazia La mia ragazza Che me li ha regalati Per Natale Ma la cosa più figa Che effettivamente Devo dire di aver Di aver montato Ma non l'ho montata L'ha montata lui La mia ragazza Come al solito È che Zago Sta leccando il pavimento Come al solito Io scivolo con i piedi I Corsair IQ Che sono Ragazzi Una Figata Atomica Cioè Io li ho montati Dietro il monitor Potevo montarli O al lato della scrivania O dietro il monitor Sono una figata Pazzesca Ho fatto anche la foto Su Instagram Che ha fatto una quantità Di like Monster Vi è piaciuto Vi è piaciuto un sacco Ragazzi Ve la lasciamo qua Un attimo Praticamente Sono delle strisce Addressable Di RGB Che hanno Praticamente Dei piccoli magneti Dietro Si attaccano Tramite altri magneti Alla scrivania O dietro il monitor Si teoricamente Dalle istruzioni Diciamo Sono fatti per stare Dietro il monitor Ed è una figata Perché si possono Staccare Attaccare Quindi Non è così difficile Il montaggio È una Puttanata Atomica Credo sia una delle cose Cioè rispetto Poi li abbiamo montati Dopo i nano leaf E è stato veramente Pazzesco Il come Sono Infinitamente Più facili E meno sbatti A montare I nano leaf Una volta che tolgo quelli C'è da ridipingere il muro Oltretutto Corsair ci ha mandato Lo starter kit Che è quello che state vedendo Nel video in questo momento Più le varie prolung Quindi potete tranquillamente Attaccarli tutti in serie Per fare tutta una striscia Infinita RGB In qualsiasi posizione Vogliate Appunto dietro il monitor È un esempio Ma vi fate tutto il circondo Delle mensole Della scrivania Eccetera eccetera Li collegate tutti in serie Li controllate Con il singolo controller Che attaccate magari anche il pc Per fare tutti gli effetti Del cavolo Esatto Quindi potete usare Il software Corsair Tranquillamente potete Gestirlo Ed è sinceramente Un prodotto superfluo Perché oggettivamente Non va a migliorare La vostra esperienza in gaming Quello è ovvio Sanno tutti che fanno più fps Però non c'è praticamente Nulla di meglio Che faccia Per rendere RGB La vostra scrivania Perché i nano leaf Sono belli Ma sono molto impegnativi Sono impegnativi Dovete appiccicare al muro Quindi tutto quello Che ne consegue Eccetera eccetera Tra l'altro Poi occupano un botto Di spazio Esatto Come vedete Io lì Ho pensato Per una Bare che poi Comunque ci sono altre vicissitudini Per cui non l'ho fatto Però tendenzialmente Sopra volevo montare Un 50 pollici OLED Per giocare Poi alle future console Ma poi alla fine Ho deciso di mettere Nano leaf Perché poi Intanto La camera di sorveglianza Un ufficio direttamente Di video sorveglianza Un monitor qua Un monitor là 50 pollici là Tanto alla fine Ormai Cioè su pc Giochi per niente tutto Adesso anche Horizon Dovrebbe uscire su pc Per cui Cioè Alla fine Magari Le compro le nuove console Però non so neanche Magari cosa ci giocherò Se saranno tutti su pc La fifa e pes La fifa e pes Esatto Nintendo invece Sempre nel cuore Come corsero A livello di illuminazione Non c'è nessuno Ci sono anche Hai visto i capelli X nel case Com CES Bellissimo Non vedo l'ora Di vedere quel case Ma Oltre a questo Oltre a tutta l'illuminazione Abbiamo provato Anche tutta un'altra serie Di periferiche Che comprendono Anche quelle che avete visto Nel mega Sboxing Di qualche giorno fa Che vi lasciamo qua su Esatto Queste sono le cuffie XPG Che le abbiamo Le abbiamo provate Sono cuffie Buone Buone Perché comunque i materiali Sono di livello Sono cuffie chiuse Non si stacca qua Il fatto che è scomodo Per cui la regolazione Non si fa Ed è un po' particolare Perché diciamo È molto pesante Questa parte qua E dà un po' fastidio Quando lo tenete Addosso Però sono cuffie Di buon livello Sinceramente Mi aspettavo Molto molto peggio E il molto molto peggio Ce l'ho qua di fianco Sono cuffie Assolutamente Di livello Non sono cuffie da studio Sono cuffie da gaming Che comunque suonano bene E il molto molto peggio Ovviamente Non sono io Ma è quello che ho in mano Io Le cuffie di Lucio Vabbè Tralascendo il design Giamaicano Che ce lo vedrai bene Uno che passa Per la giamaica Con questo tipo Di design Sono Sono ovviamente Le cuffie di overwatch Del personaggio dedicato Noi non giochiamo A overwatch Quindi E niente Sono comodi Come le HD 800 Sì Uguardo Due gocce d'acqua Niente Al di là del fatto Che mi fanno diventare La testa ancora più grande Di quello che è Tipo il doppio Di quello che è In generale Non sono neanche Qualitativamente Particolarmente Eccelse Anzi No Sono le cuffie Che in questo momento Suonano peggio Però Tra il roster Ovviamente Nostro A livello di bassi Si suonano bene Però su tutto il resto Delle frequenze Non ci siamo proprio Wow È possibile usarla USB È possibile usarla Col cavo Ha diverse modalità Di funzionamento Poi oltretutto È una cuffia Semi aperta Nel senso che Non è Si sente un botto Quando Quando ascoltate Non è adatta Se avete persone vicine Magari in treno Però comunque Addosso si sta bene Perché comunque La comodità c'è Però diciamo che Entrambe queste cuffie Sono sovrapprezzate Rispetto a quello che è Secondo me La soluzione ideale Per agare Prendete Un siren Di Razer Come microfono USB E poi vi comprate Su Massdrop Delle Sennheiser HD600 Da fatte da Massdrop Che costano 130 euro E con 200 euro Il prezzo di questo Vi comprate Di queste due Avete una qualità audio Decisamente superiore Poi vi prendete anche Un da camp Dedicato Sui 120 euro Che vi lasciamo Qua sotto in descrizione È un bel produttino Sempre se le cuffie Da Massdrop Vi arrivano Vabbè Ci metteranno un bel po' Però vi arrivano Per ultimo Ma non meno importante Cioè guarda quante cazzo Di roba abbiamo fatto In un mese Praticamente Neanche Nelle vacanze di Natale 17 giorni Per 1950X È nel mio PC Abbiamo Abbiamo finalmente montato Siamo finalmente riusciti A fare questo upgrade Che promettevamo Da mesi E abbiamo montato Il 3950X Nel PC di Davide Quindi Essendo stato Per diversi mesi L'oggetto del desiderio Di Davide Finalmente ce l'ha Come ti trovi? È una bomba Cioè Quante differenze noti Dal 3900X In gaming Non c'è assolutamente Nessuna differenza Ma quando facciamo Montaggio in 4K Lo sentiamo Cioè Sinceramente io lo sento E rispetto Soprattutto Da differenza Allora Il discorso Che ovviamente Io sono passato Da 9900K A 3900 A 3900X E questo è un po' Afflosciato Quello che potevano essere Le differenze in produttività Perché la differenza Per il 3900X E il 3900X C'è Ma non è Come passare Dal 9900K In produttività Lì La differenza Che avevo Quando uso La bench test Per montare Dove il 9900K E poi Quando monto Sul 3900X È totalmente Un'altra roba Cioè La velocità Con cui si fanno Diverse esecuzioni Nel montaggio in 4K Vero Non quelli Del cacchio Tipo Final Cut Veramente Sono Spettacolari Questi sono Gli upgrade Che per niente In combo Sono tipo 4-5 mila euro Gli upgrade Che abbiamo fatto Assolutamente Sì Quindi fateci sapere E poi diciamo Perché non abbiamo i soldi Per comprarci una casa Però quello è un altro discorso Vabbè ma è Natale Natale siamo tutti più buoni Più spettaci Cosa ti sei comprato Mi sono fatto un regalino Niente E niente Queste erano Le nostre vacanze Di Natale Tipo cinepanettone Fateci sapere Se gli upgrade Vi sono piaciuti E ricordate che trovate Un botto di roba Sul nostro canale Telegram Delle offerte Che vi lasciamo Qui sotto In descrizione Alla prossima Ragazzi Alla prossima Grazie a tutti.